Post fasulli no, vedete per esempio Christian non è in academy quindi non può sapere che cosa cavolo è un advertorial, come improntare un advertorial fake per vendere un determinato tipo di prodotto quindi è normale che a volte sclera nei commenti così e dice perché facebook fa queste cose eccetera eccetera quello che vedi tu non è un post fasullo, quello che vedi tu sono advertorial, che cosa cavolo è l'advertorial? è semplicemente una pagina che cerca di far compiere a lì donazione a differenza di una landing page la landing page può averci un form cattura contatti, può essere strutturata con scritto semplicemente lascia la mail qui oppure acquista questo prodotto, l'advertorial racconta un po' la storia quindi se stai promuovendo una crema per la cellulite e ti approccia al lead dicendo che sei un dottore e che dopo una ricerca hai scoperto che questa crema funziona più delle altre lo porti dentro un advertorial, se lo porti dentro una landing page è una cosa semplice basta scrivergli, lascia la mail e fai tutto tramite mail portandolo dentro l'avvertorial lì devi convertire quindi dentro l'avvertorial devi scrivere la storia del dottore, la storia della crema devi metterci testimonianze sotto anche finte che dicono che l'hanno provata e quindi in quel caso la vendi di più io non uso la landing page ma uso tutti i advertorial perché nel lavoro da affiliato prettamente il tempo che si perde di più è proprio quello nel fare gli advertorial